non so per quale motivo ma sto gioco parte in automatico non ha menu, non ha niente, parte in automatico dal gioco questo è un horror che è uscito oggi, un po' particolare perché è malattissimo oltre a livello di componentistica del gameplay vai, lo proviamo, quindi se io faccio nuova partita, si, non mi dirai niente di perdere capitoli ah, poi si parte così, in automatico cazzo beh, tutto inizia dormendo inizia dormendo ah, qui immagino devo andare superi il muro no, dico no dico neanche così ci si accuccia con questo si corre, ok ma quindi dove devo andare, scusami è intuitivo come il nulla secondo me io devo andare in alto esiste controller la verità è non farti scoprire ti abbassi cammina sul muro con A azione ti muovi corri niente di che inventario c'è cinque slot ah, ok raccoglie cose più grandi di lui magari dai ah, ah, ah ah, ah ah, ah, ah ma ah sai c'è per attivare quel grosso marchigino ah, porca puttana giuro, non ci ho giocato prima non ci ho mai giocato prima però non aspettavo più ignorante quindi di qua non ci si può venire l'audio è un po' alto è così no, mi riesco qualcosa no, mi riesco sembra aver aperto qualcosa non capisco no, se qui l'enigma era quello di far venire giù il coso ci si mette la chiave qui? posso mettere la chiave? no ah, è qui, guarda ok, però a questo punto posso venire di qua e ne devo... ah, vedi uno no ah, porca... cazzo cos'era quello di qua ci posso andare? no, di qua è una porta quindi non ci posso andare no, 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 no dimmi che non mi ha fregato niente ok no, sono i due ingranati allora, fammi vedere no, 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 no... no, 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 no... ah, no, 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 no no, 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 no ok, ok adesso ci sono no mamma mia è malato questo aia cazzo ho preso si perché ho no 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 mamma mia quanta malastia penso che se non mi davano una mossa a chiudere uccidevano capitolo 2 sbloccato no non ci credo no aspetta è successo qualcosa cos'è cambiato l'orologio si è fermato l'orologio sta andando indietro ah no devi comunque dormire per ma cos'è c'è l'entil l'orologio sta andando a chiudere l'orologio sta andando a chiudere ah devo trovare la leva ok piccola chiave vecchio l'orologio no aspetta non ci posso andare no 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 perlomeno non ci credo che debba andare lì non ci credo che non ci credo che non ci credo che no 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 ma c'è uno stupido l'orologio no e che intuitivo zero ok, adesso do tornare indietro e qua non c'è niente era questo? no era questo qui ci vorrà un piede di port con qualcosa per aprire eh, in qui cosa c'è? scusami un attimo che senso ha farmi venire qui? vecchio roso ma qua non ci puoi andare scusami un attimo qui si è sicuro Boh, cosa dovevo fare? Proverò a tornare indietro per così Ah, forse ho capito Fiammiferi, ok Devo dar fuoco A quelle travi No, non ci credo Lettera T Ah, che giustamente è un sogno Quindi ci sta Qui non c'è niente Sopra Ah, forse la T serve per fare la leva Mamma mia, quanto sono forti Terzo capitolo sbloccato Non sto capendo se la Se la mappa sta cambiando La casa Ah, siamo fuori Cos'è? Mano amputata Che schifo Qui siamo chiusi Quindi per il momento è lineare Ah, quindi dobbiamo trovare altre tre mani amputate per aprire la porta del parco Ok Ok Mmm Oh No, qui non ci posso più mettere Ci posso mettere niente Ah, qui non ci posso più mettere Ah, qui non ci posso 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 mettere Ah, lì manco il raso, ok. Ah, ah, perché dall'altra parte non potevo vederlo, che storia, ok, quindi ci viene la chiara, quindi qui niente, comunque ha dei curiosi sogni malati questo bambino, ok, quindi in teoria c'è la batteria, cazzo! No, maledetto! Mamma mia che casino, puttana! Ok, allora, qua, perfetto! Nel frattempo ho aperto qualcos'altro, non penso, voglio guardare da questa prospettiva, questo non funziona. Tieni da la macchina! Cos'è? Manovella! Manovella! Doveva usare la manovella! Questa prospettiva! Magari mi sono perso qualcosa! Ah, forse qui! No! 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 Scusami un attimo! Eh! Vaffanculo! Eh! Perché non c'è? Ah! Non esiste! Allora facciamo così Facciamo così Ok Allora Manovella Cosa sono quei lucchetti? Un problema è che Mamma mia Che culo No Ah no Cazzo qui è chiuso E quindi come devo fare? Cazzo Fai una cosa No Devo trovare una maniera Di eliminare quel bidone lì Cosa c'è questa manovella dove va messa ci deve essere qualcosa che va abbassata per me il parco è l'ultima cosa è l'ultima zona dove andare secondo me qui c'è questo e basta andiamo a vedere di qua macchina quello e questo qui allora no mi sono perso mi sono perso no perché qui c'è la manovella qui c'è la manovella qui c'è la manovella si ma veramente c'è il lentil ma non puttata manovella perfetto lancetta ok mi ha preso cazzo 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 come faccio a vedere se quel maledetto arriva da l'ora che non fa scatti improvvisi grande fatica fatica la mano amputata mi aspetta la metterla su o se no la mettiamo su e la fanno così non aspettiamo due volte perfetto spettacolo ok spettacolo spettacolo è un'ora che lo cerco di fare guarda ho capito l'ho sbloccato oh c***o ok ok e qui è chiuso ok e qua c'è aperto c***o è interrotto ah che mi serve è un un film mi serve qui è chiuso guarda ok ok c***o vedete che devo smontare la lampadina qui devo girare il circuito in qua ok 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 serpente ah ho capito ho capito ho capito ho capito un po' crudele un po' crudele scusami scusami un attimo non è acceso lì ok 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 maschera 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 non è non è non è non è ma non è non è non è non è un po' crudele ma non è non è Storia Bello Quanti livelli sono? Arriviamo poi un giorno in fondo a questo a questo giochino Mi sa che sia l'ultimo livello questo Allora E cosa c'è? Il nostro isolante Ah Siamo su un treno Ok Ok No No Pannello Sotto zonale Chiamere armadio No La chiave dell'armadio è questa Ok Cabatappe Ok 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 Ma ammazza così grosso era? Ok 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 Piano giocattolo Piano giocattolo Ok Quindi andrà a cavatarmi Ok 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 Cazzo! Mi hai visto? Brutta cosa Cazzo! 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 Dobbiamo trovare nel fuoco! Sicuramente! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fatica. Che basta hanno. Sono tachicardico. Non dobbiamo mettere dentro al forno. Dobbiamo metterlo. La dinamite. No. Dinamite. Ah, ho capito. Dobbiamo metterlo qui. No. Ah no, qui lo devo tenere io. Ah, ok. Ok. Ehm. Ah, cazzo. 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 Ehm. Ah ma vaffanculo Eh aspetta Ok Adesso ci siamo Eh ok Che fatica Ah ma stia molto bene questi occhi Ok Ah stia a ricarme Cazzo, ho sbagliato Devo scendere di qua Correre Correre Grazie a tutti. 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 a tutti.